075, lo conosci chiunque Attenzione, un programma col vino, ma non sul vino Cazzo Ehi Guatta Ehi Albi Come va? Sì dai, sempre il solito Sempre il solito Ma andiamo al nostro argomento di oggi Oggi, con i nostri amici che ci seguono da casa, parleremo di oggetti di lusso Ragazzi siamo su D-Max e quest'oggi parliamo di oggetti di lusso ragazzi Come vengono fatti Puglia di bichop Pubblicità Ma donna quanti ne hai preparati qua? Allora, oggetti di lusso, ho preso magari non proprio le cose più costose al mondo Però tra le cose più costose e anche le cose più particolari per il quale strapagare Addirittura di qua hai cambiato il font delle scritte Sì, 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 perché dopo lì cambieremo anche di prezzo Un pizzico di argomento Ok, cambiamo argomento, ok, perché i prezzi Quindi, oggi andiamo ad aprire Il nostro vino Che ovviamente, se volete sapere cosa avremo bevuto Beveremo beberaggio Rimanete con noi fino alla fine perché a fine del video vi faremo vedere Vi illustreremo questo vino di oggi Che deduco non sia un fermo No, bravo Dalla bottiglia Beh, la bottiglia sembra veramente uno di cui vini costosi Però non saranno costosi sicuramente, spero, come quello che andremo a leggere dopo Perché altrimenti il mio debito ammonta Grazie, no, ti ringrazierei comunque in ogni caso Dovrebbe essere proprio un'occasione veramente speciale Ma ogni volta che si guarda un video di 0.75 è un'occasione speciale Oh, possiamo dirlo? Ti aspetti uno scorreggione di quelli grandi Invece si è sentito addirittura Il microfono, ragazzi Il microfono fa la differenza Quello è il tuo? Molto bene Sente da Dio Ormai siamo naturali, ragazzi Sembra quasi rosetto È un rosè È un rosè, ragazzi Madonna, ormai anche l'occhio è allenato qua Questo è vino frizzante Ma prima accendiamo il LED Di 0.75, ragazzi Volevo dirlo dopo, ma diamo via lo show Yeah Questo è vino frizzante e questo è 0.75 E ricordiamo, come sempre, un programma con il vino, ma non sul vino Figo Molto, molto figo Molto morbido, anzi No, però Ma mi sembra... Non dico niente, ma stupendo Rispetto agli altri Va bene, continuiamo Andiamo avanti Non ho imparato un cazzo fino adesso Il primo oggetto lussuoso Lussuoso, costoso È un orologio Perché non partire dagli orologi che Mi sembra... Sono ormai nella cultura di tutti La casa britannica Graf Diamonds Vanta un orologio capolavoro di alta gioielleria Del valore di 55 milioni di dollari Cioè, gli provi ad immaginare 55 milioni di dollari? Non riesco ad immaginare nemmeno un milione In pezzi da 5 euro Potremmo riempire questa stanza Sarebbe... avete mai fatto un bagno in un sacco di soldi? In una vasca di soldi? No Nien chi è pezzo Era solo per... L'orologio in questione si chiama Il Graf Hallucination È un orologio da donna Ma c'è la E alla fine con l'accento? Che accento è? Ho sbagliato a scriverlo Ah ok, scusami Un orologio da donna tempestato da rari diamanti colorati E il frutto del lavoro di designer, gemmologi e maestri artigiani Gemmologi adesso è una figata questo qua Questo lavoro che c'è sempre stato Però sta prendendo proprio piede in maniera più importante Mi piacerebbe anche intervistare un gemmologo Praticamente Tutti i gemmologi Sono gente che fa proprio degli studi, dei corsi, hanno delle certificazioni C'è anche una scuola proprio dedicata E vanno in tutto il mondo A cercare queste gemme rare che sono tipo in Cambogia In coso che hanno tutto un valore In Alaska Sì, tutto nei vari posti del mondo Ho detto proprio la Ma non dimentichiamoci anche l'altro capolavoro del brand Ossia il Graf Diamonds The Fascination Un orologio rivestito di diamanti del valore di 40 milioni di dollari Che batte anche gli orologi più costosi del 2017 Ragazzi Ma andiamo avanti con la categoria sempre Tic e Tio Orologi Tic e Toc Tic e Toc Tic e Tio Orologi Tic e Toc Lo dico anch'io Orologio Chopard 201 Carat Caratti? Ti sei smenticato? No, è il suo nome No, non so Carat Ha un carat Forte Molto Bene Anche le Maisons Chopard Od Chopard Vabbè Propone un orologio molto costoso Che rientra di diritto nella lista degli oggetti più cari al mondo Difatti parliamo di 25 milioni di dollari ragazzi Una simpatica cifra anche qua Bruscolini Cosa? Spiccioli Vuoi che sia? Un nostro video? Ci costa quanti milioni di dollari a video? Sette Che cazzo vuol dire? Sette Sette Diciannove Sessantadue Quattro Quattro L'ho detto giusto Un coglione E Composto da un minuscolo quadrante sommerso da una cacata di diamanti gialli e rosa Cascata scusa Di gialli, rosa e blu Per un totale di 201 carat Quando vedrete la foto Cioè E' proprio Uno se lo mette al polso Una rosa di Guarda quanti sordi c'ho Guarda Scusi che ora è? Madonna che bello orologio dici? Mi sono messo il primo che ho trovato in casa Ma proprio una cacatina Alla ricchezza Confronto al mio Ho cambiato il cinturino quattro volte del mio Passiamo ora alle sneakers E abbiamo il Golden Nike Dunk High Cioè solo per il nome Solo per il nome Lo stilista e creatore new yorkese Ken Kourtney Del marchio di abbigliamento fashion Just a Not a Rich Kid Just a Not a Rich Kid Ma perché fanno i nomi così lunghi? Scusami Vabbè Ha creato cinque paia di scarpe di lusso Placcate in oro 24 carati Vendute per 5.405 dollari La Golden Nike Dunk High Possono essere acquistate Anche sul sito opusart.com Oppure su annacustera.com Però va detto che Io le ho messe Non tanto No Le ho messe Ah ok Sì Sì Le ho messe Perché Hai venduto il ristorante per un giorno Non tanto per il costo che hanno Perché comunque 5.000 Vedremo Avremo sempre cose molto più costose No ma le ho viste anche in alcuni negozi di Bologna A Verona Cioè me le trovi Però sono proprio Super barocche Queste scarpe Esatto Sono scarpe dorate E quindi Sanno proprio all'occhio Sì 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 Colpo d'occhio Sono veramente assurde Maru Che bello Sti scarpe Veramente Veramente assurde Leggi il prossimo Passiamo Passiamo a prodotti un pochino particolari Un dentifricio ragazzi Ebbene sì Abbiamo anche i dentifrici Ma Se ricordiamo Anche l'acqua Della Madonna Di Madonna Che lei beveva un'acqua Vabbè non l'hai messa quella Magari più avanti forse Un dentifricio di lusso Tio 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 Non è in spagnolo Non è in francese Cos'è? Tio 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 Raga è una pasta estraforte Che non contiene sostanze tossiche Contenuta in un tubetto bianco Con un cappuccinoro E mutande di lino E un imballaggio di lusso Che ricorda quelle del cioccolato La formula brevettata È stata scoperta dal dottor Tetsuo Nakamoto Passiamo dal romano Al giapponesi E ha un sapore di culo Di menta fresca Costo 80.000 Cioè 80.000 80.000 dollari Tutti lavi i denti Oh mi sto lavando i denti Con 80.000 Con 20k Assurdo Assurdo però Tremendo Non ho parole Stiamo parlando di un qualcosa Che va oltre la ragione umana La scacchiera Royal Diamond Invece di Charles Hollander No Scusate Non è di Charles Hollander Ma è scacchiera Royal Diamond Charles Hollander Charles Baron Mekin Un celebre artista francese Direttore di gioielleria Nel 2005 ha prodotto Gli scacchi Royal Diamond Uno dei set da gioco Più costosi del mondo Trenta artigiani Hanno lavorato Per oltre 4.500 ore Utilizzando complessivamente 1.168,75 grammi d'oro bianco 14 carati E circa 9.900 diamanti bianchi e neri Per un valore finale di 500.000 dollari Per una fottuta scacchiera Che poi magari la metti nella vetrina E dici Ecco Scacchiera Uno può vederlo come Ma giochi a scacchi Non ho mai giocato a scacchi Io penso che Sia un investimento Collezionista Vendi lì Crescerà di valore Magari fai Però Pensare che uno possa pagare 500.000 euro Per una scacchiera Ma sono Quegli oggetti Che vendono proprio alle aste Secondo me Proprio per un fattore di collezione Neanche per un fattore di Di giocata Che Cazzo Mi è caduta la regina Sta spaccando la regina Sta facendo E dopo vedi il cane Con una delle pedine in bocca Il cane che Dopo che l'ha ingurgita Il cane più costoso al mondo Finché non caga Finché non la caga Ok Andiamo avanti Passiamo a No non è che credo Cosa vuol dire Puntine d'oro OMS Tre O ragazzi OMS Puntine d'oro Fra gli oggetti più costosi del mondo Le puntine per Spillatrice Placcate in oro 14 carati Sono quelle di sfera 14 carati Concepite come veri e propri gioielli Del valore di circa 100 euro l'una Poi Questi pezzi Possono essere applicati Agli indumenti E No O a O a Qualsiasi altra cosa Con l'aiuto di una normale spillatrice Ah parliamo proprio solo delle puntine Sì tu praticamente Non voglio sapere il valore della spillatrice No no la spillatrice è normalissima Qualsiasi Qualsiasi Sono proprio puntine misurate Però tu le prendi Ma che senso ha? Perché dai valore al tuo abbigliamento Cioè tu prendi la spillatrice Ti metti tipo la maglietta E sei un signore Assurdo Sì Quindi potete rimanere con la stessa maglia Per 12 anni Ma ci mettete A valore dopo Cambia totalmente Tu devi pensare che ogni colpo Che stai facendo Sono 100 euro Hai visto quello? Oh madonna Quello Che figo C'è la stessa maglietta Però c'è le puntine Mamma mia Che bene che si veste Solo per le puntine Fanculo Fanculo Piccola parentesi Con le penne Penna Stilografica Aurora Diamante No però le penne Si sa La penna stilografica Aurora Diamand Ha la caratteristica Di essere completamente Rivestita Di diamanti Da The Beers Un oggetto di super lusso Che conta Più di 30 carati Ai quali si aggiungono 18 carati del pennino Realizzato in oro massiccio Costo Un milione di euro Un ceffone Magari la vendono anche Nelle Bigiotterie No Nel tabacchino Sì Nelle bigiotterie No Nel tabacchino Pensate che Tanti tabacchini Hanno magari Una pene Sì Una pene Sì Oh More Butta su Do eti De pene Vai Tazza Di 0 Oro Per noodles Ah Te mandatmi tutte le robe coreane Nomi giapponesi Perché so che diteci un fiantai Perché ce l'ho piccolo come un cinese Fottiti No Un lussuoso Cofanetto A tiratura Limitata di 100 pezzi In vendita da Harrods Cos'era Harrods? I magazzini di Londra L'ho vista io L'ho vista io Il grande magazzino Di Bastava Leggere la frase successiva E non fare la figura Del Luriante Che cos'è l'uriante? Qui sotto in descrizione Wikipedia Grande magazzino di Londra Contenente una tazza d'oro Per noodles Con forchetta Non ha senso E i noodles non si mangiano Con la forchetta Porca ma... No La forchetta e tovaglioni inclusi Al costo di 40.000 euro Però io anche tovaglioni inclusi È anche la forchetta Non è che non è da tutti Penso che io mi ero preso le forchette Il servizio di Di aggenteria d'oro Color d'oro Color d'oro Color d'oro Mer d'oro 16 euro Sono Stato a smar Io praticamente Dolavaggi Adesso è il color Bronzo Bravo Dolavaggi Rame Dolavaggi Argento Dolavaggi Muoio perché ho Ingurgitato tutto l'oro Con quello che ci hanno messo sopra Bicicletta Butterfly track Madonna Qui abbiamo Proprio Ma come la chiamiamo Leggera Cialeali Cialeali Come una farfalla Butterfly Track Va Va da trekking Madonna che bella Madonna Bicicletta Progettata dal rinomato artista britannico Damien Hurst E guidata da Lance Armstrong Sai che non so se sapete Lance Armstrong chi è Perfetto Perfetto No era quello che cantava Il noto ciclista famoso soprattutto per il suo caso di doping Durante il Tour de France del 2009 lui utilizzò questa bicicletta Ed è stata battuta all'asta da Sotheby's per 1,3 milioni di dollari Che comunque però è una cifra astronomica però dobbiamo pensare che la bicicletta Ha un valore di base Il suo valore era di 500 mila dollari Il che ne fa la bicicletta più costosa al mondo Una curiosità Nella sua realizzazione sono state utilizzate vere ali di farfalla Ma si Gli hanno messi in mezzo alla No perché l'hanno fatto di primavera Invece Per i cerchioni della mia auto Hanno utilizzato vere e proprie cimici Però andiamo avanti Monopoli d'oro ragazzi Allora io adoro i giochi da tavolo Mi piace un botto il monopoli Io ho quello di Game of Thrones Bellissimo quello lì ogni volta che premi Adesso vi sveglio un segreto Per vincere a Monopoli Basta avere Le viola e le arancioni È vero Ma anche le verdi No le viola e le arancioni L'algoritmo passi di lì più volte di tutte Sì? Sì Ecco perché quel pezzo di merda del mio amico vinceva sempre Il presidente del museo della finanza americana Finance David Cohen E il rinomato designer di gioielli di San Francisco Sydney Mobile Hanno prodotto il gioco Il presidente del museo della finanza americana Finance David Cohen Finance è il nome del museo David Cohen è solo Ok la virgola amico Pensevo tutto un'idea Lui l'ha chiamato proprio Finance David Cohen Cioè lui è Lui lavora nella finanza E di dove fa finance Cioè È un predestinato Mio figlio Le grandi cose a fare Finanziare Cioè è come il porno attore Che all'anagrafe L'hanno chiamato Però volevo fare muratore Volevo fare muratore Mi tocca È vero Finance David Cohen Museo Allora ripartiamo Il presidente del museo della finanza americana Della finanza americana Ma David Cohen Della finanza americana Finance David Cohen E il rinomato design Andiamo avanti Il rinomato design DJ Eli di San Francisco Cinemodel Hanno prodotto Il gioco del monopoli Utilizzando Oro massiccio Diamanti e zafferi Un gioco In scatola di lusso Del valore Di 2 cazzo Di milioni di dollari Cioè proprio Dopo il 2 c'è il cazzo Dove ogni competente È stato curato Componente Era incompetente Ogni competente Ogni componente È stato curato Nel minimo dettaglio Non leggo un libro Non leggo da Da un bel po' di tempo Sono anche abbastanza fluido Sì La scatola di cartone Insomma Dopo aver giocato Una bella partita monopoli D'oro Un po' a scacchi Dopo aver I soldi saranno veri Penso Ti sei lavato i denti Hai mangiato e tutto Adesso è il momento Di andare in bagno E puoi usare La tua carta igienica d'oro Io mi ero preso quella Con i 100 euro disegnati Ecco ma questa Non basterebbe Perché Un rotolo di carta igienica Fabbricato con una lamina aurea A 22 carati Che esiste In un solo esemplare E venduto al prezzo Di circa 1 milione e 300 mila dollari A australiani Sul sito Toilet Paper Man Utilizzabile al 100% E prodotto in Australia Questo sorciolo di lusso Per il bagno Viene consegnato a casa Personalmente dal produttore Insieme ad una bottiglia di champagne Perché dopo la cacata Un bicchiere di champagne Vuoi mettere Insomma Bene Adesso Te li ho messi No no Sì però io non posso Te li ho messi Io ho paura ragazzi A parlarne Io leggo E basta Dopo gli oggetti Più costosi al mondo Parliamo dei vini Più costosi al mondo Abbiamo selezionato 10 vini Vini che per caratteristiche Annate particolari Hanno avuto il loro prezzo Sparato alla follia Però ricordiamo Questo è un programma Corvino Non Sorvino Però questo è semplicemente Una Uno speciale Una speciale parte Una parte speciale Vi fa capire Quanto sia Enorme Il mondo del vino E quanto una sola bottiglia Che potreste anche Trovare a casa Di un parente Perché è successo Mi pare anche su affari di famiglia Ci hanno visto Le puntate così Che uno Trasloca Trova una bottiglia Si presenta Questa bottiglia Ho letto che è famosa E aveva magari Una bottiglia di Rinomata Assurda E quella bottiglia Che magari a suo tempo Era stata pagata Non so 50 euro Per una cavolata No dal momento che la apri E come i giocattoli Basta Sì sì E come i fanco pop I fanco pop Esattamente O tantissime altre cose Esatto Ragazzi ma scusami un po' A te costa Mettere un mi piace Nel video Eh no A me no Ragazzi A voi costa Lasciare un like Mi raccomando Seguiteci Mettete un like Condividete Instagram TikTok Youtube Siamo qua Che per noi Fa la differenza E potremo continuare A portarvi queste notizie Che credavate Non potevano interessarvi E forse è così Ma oggi le ascolterete Grazie Fino alla fine Perché alla fine Vedremo il vino Ve lo ricordiamo Partiamo con Il numero 10 Socio Continuo io Sì mi piace che Leggi i nomi Che non sai Ma allora Ah diciamo subito Il prezzo qua eh Partiamo da un Cabernet Sauvignon Di Inglennuck 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 Un 1941 18.125 euro Ragazzi Simpatica Simpatica Quando vai in supermercato Scegli di solito Quello che costa di più Perché sicuramente Sarà più buono E stiamo parlando Di tutti i vini venduti Cioè quindi Il valore è stato fatto Da un movimento di acquisto Quindi non è che Questo vino è là A un prezzo Ed è là perché È stato sorpreso No è stato battuto All'asta nel 2004 È considerata dagli esperti Una delle bottiglie Di vino statunitense Più care È stata prodotta Dalla casa vinicola Inglennuck Fondata nel 1879 Nella Napa Valley In California È acquistata Nel 1975 Da Il signor Ford Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola Grazie ai soldi Guadagnati dal film Il padrino Quindi bellissima Sta storia Napa Valley Che tra l'altro Non è quello delle macchine Quindi No Quello delle macchine Signor Ford Perfetto Benissimo Siamo ovviamente in Francia Con il turno successivo E abbiamo il vino Più importante Del mondo Conosciuto Questo è il vino Più importante Del mondo Il Leggirlo Vediamo cosa ti esce Devo leggerlo in francese Devo Se ce la fai Sì I Romani e Conti Oh Perfetto I Romani e Conti 1990 Euro 20.650 Ragazzi Sì In questo caso Il prezzo del vino È dato dal fatto Che Le vigne Che producono Questo pinot nero Hanno un bassissimo rendimento Quindi Fanno poco vino Quello che ne esce È un risultato Sacro È rarissimo Ok E in questo caso Nel 1996 La casa d'aste Sotheby's Ha Abbattuto Una cassa Da otto bottiglie Perché parliamo Al tempo Che ci facevano Le casse Dotto bottiglie Adesso sostituite Quasi totalmente Dalle casse da sei Per 132.880 sterline Che fa appunto 20.000 euro E spicci E spicci E spicci Spocci Però Adesso Saliamo di classifica Ah Questo l'ho già sentito Sto scherzando E fa dire Noi Vabbè Il Grange Grange Aspetta Lo leggo così Il Grange Hermitage Di Pen Di Penfolds Penfolds 1951 Euro 28.222 Te rispenderesti? Assolutamente no Siamo in Australia E' la punta di diamante Della casa vinicona Penfolds E' prodotta con Uve sirai Piccole quantità Di caverno e sauvignon E' una delle cantine Più antiche d'Australia Fondata nel 1844 L'annata del 1951 E' particolarmente Preziosa Perché ne esistono Solamente una ventina Di bottiglie Una ventina? Per farvi un conto Del caicolo In tutto il mondo Ce ne sono solamente Una ventina Per farvi il conto Del caicolo Che in quell'annata Lì ci sono 20 bottiglie Pensate che Una vigna di un metro Del prosecco Tipo in un anno Possono uscire 15 milioni Di bottiglie Quindi E' totalmente Provate un attimo A contrapporre le cose Pensate quanto Può avere valore Una bilancia Giustamente E' anche quello Che fa la rarità Nel vino Ma quindi Se io mi mettessi A produrre Del vino A casa mia Semplicemente Perché ne produco poco Perché riesco a farmi Una vigna Di due metri Lo stesso prezzo Si potrebbe fare Dovresti solo capire Come far diventare Casa tua E' una cantina E stiamo parlando Di vini Che non sono bevibili Forse il Romane Conti Probabilmente Forse è ancora bevibile Però fino adesso Questi vini qua Probabilmente Tu li apri E non sono bevibili Aperta parentesi Uno dei vini Più costosi Che hai bevuto te Beh io Ho un Romane Conti Si può dire il prezzo? No Non si può dire il prezzo Ragazzi Sono arrivato Massimo A una bottiglia Da mille euro E comunque È un buon Però È una bella stecca Ragazzi Non amo Non amo Esporre No A parte quello Però non amo Andare a spendere troppo Per il vino Preferisco di più Cioè ovvio Le assaggi Top di gamma Delle aziende Però La cosa più bella È andare proprio a cercare Quelle piccole In realtà Che fanno vini Paurosi E che puoi E puoi Veramente Bere delle cose Avere una qualità Eccelsa Senza andare a spendere Il prossimo Che andrai a trovare Che andrai a leggere È il più costoso Della sua categoria Il Sherry di Massar Di Massandra L'hanno fatto In una mansarda Il Sherry di Massandra 1775 Euro 31.953 Ragazzi Anche qua Una bella sberla Nel culetto In questo caso Siamo È situato in Crimea Quindi c'è la zona Ci fa capire Per chissà Dov'è la Crimea Il pezzo strappato Durante un'asta Organizzata da Sotterbys Sotterbys è una Delle più importanti Case d'asta Per la categoria Vini Nel 2001 È dovuto Soprattutto all'età E ne fa Lo Sherry Più costoso Al mondo E ne fanno di Sherry Però Cazzo 1775 Però ci sono aziende Che adesso Ti permettono Di acquistare Dall'azienda Quindi non All'asta Sherry Del 1920 Perché è un film Che è un vino Che tenuto In queste botti Può sopravvivere Veramente Tantissimi anni Parliamo di Quindi quanti anni? Cioè nel senso Questo è Cioè qua La bottiglia La bottiglia del 1775 Non è bevibile Io adesso Qua a disposizione Io a disposizione Per te Ho un vino Del 1971 Un PX Che potrebbe essere Bevibile No no È bevibile È bevibile È bevibile 1971 È buono È particolarissimo Però è buono Ok Ti vado proprio A chiudere Con il podio Di questa Classifica Meravigliosa Allora Ce ne sarebbero Tanti altri Potremmo andare avanti La giornata Però Chateau Margaux Del 1787 Euro 165 1275 Ok La storia di questa Bottiglia è curiosa Anch'essa Era anch'essa Parte della collezione Di Thomas Jefferson E appanteneva Al mercante di vini William Socolin Che nel 1989 Lo portò con sé A una cena organizzata Da Chateau Margaux Presso il Four Seasons Hotel Di New York Qui una cameriera Lo urtò Facendola cadere E mandandola in pezzi Socolin chiese All'assicurazione Un risarcimento Di 500 mila dollari Ottenendone la metà La cameriera Fu licenziata All'istante Anzi presentò Lei stessa Le dimissioni Con le lacrime E le stesse lacrime Le pagò caro Perché anche quelle Doveva venderle Per poter ripagare Il suo debito Però di fatto Questa l'abbiamo venduta Per onore Perché non è mai stata Venduta questa bottiglia Queste sì invece Il cabernet di Screaming Eagle 1992 euro 228 mila 228 Simpatici anche questi Questo rosso prodotto Da una casa vinicola Californiana Occupa la vetta In virtù dei soldi spesi Nel corso di un'asta Del 2000 Dove appunto Un imperial Da 6 litri Ok Madonna Bottiglione Un matusalem Si chiama in gergo 6 litri Un bel bambino Fu venduta Per l'equivalente Di 500 mila dollari L'intento benefico Dell'iniziativa Gli fa per occupare Un ruolo trascurabile Se parliamo di collezionismo puro Capito? Cioè qui parliamo Del costo Però come bottiglia in sé Non è allo stesso livello Degli altri È stata fatta Per un'attività benefica Qua parliamo proprio Di Qui invece siamo Di un'altra questione Qui invece siamo ancora Con il domain Indolam romane conti Che avevamo visto all'inizio Andiamo avanti Con il matusalem romane conti Del 2000 Matusalem quindi 6 litri Che è stato venduto A 357 mila euro Vabbè Ciao Addio Addirittura Ed è stato venduto Da poco Perché è stato venduto Nel 2021 Ma penso sempre Per puro collezionismo Data una bottiglia Da 6 litri Credo che Questo si può avere Addirittura Si può avere Ed è sicuramente Fenomenale Quale pazzo Potrebbe mai aprire Non lo aprirai mai La tieni là Come la scacchiera Come il dentifricio No il dentifricio Metti che uno possa Parliamo di 80 mila euro Questo è un vino Che è un gioiello Ok Bene I soldi li abbiamo Esauriti Basta Abbiamo comprato tutto Abbiamo parlato di Milioni e milioni Di dollari È il momento Di scoprire Cosa abbiamo Vovuto noi Questa sera Ma non andiamo A dire il prezzo Ma sicuramente Non sarà Non parliamo Di 10 mila euro Orbe del genere Il mio debito Sta accumulando Abbiamo vado Un Etna Doc Metodo classico Rosè Dell'azienda Palmento e Costanzo Un metodo Classico Siciliano Fatto con 100% Nerello Mascarese Uva autoctona Baccarossa Azienda nata nel 2010 Situata a Contrada Santo Spirito Però Ha varie Varie zone Dove Dove ha vari vigneti Ok L'abbiamo sentito E dimmi se sei d'accordo Se hai sentito queste cose Fruttato Sicuramente Sì Floreale Senti un po' di note floreale Un po' di note Potrei Però le mie papille gustative Non sono allenate come le tue C'è una bella nota Agrumata Sicuramente Anche perché la zona Ha quelle caratteristiche Verso la fine Un'ottima sapidità Minerale E piacevolmente acido Ha una bella acidità Esatto Però non ti asciuga la bocca Sinceramente Non è che te l'asciuga Verso la fine Leggermente Ma rispetto agli altri Questo è una sboccatura 2021 Però fa 20 mesi sui lieviti Io mi sento di dare Assolutamente un notte e mezzo A questo vino Che mi è piaciuto molto Guarda io ti direi Tranquillamente un 9 Perché va giù liscio In una maniera assurda Veramente Può essere bevuto con Tranquillamente per un aperitivo Oppure Ci mettiamo un po' di colpa Sì Parliamo sempre Rimaniamo sempre sul pesce Comunque Ma possiamo metterci anche Della carne Magari non Sicuramente Non le cottura in umido Magari anche le carnazze Quelle importanti Le vedrei Delle belle cicce Però Se tu ti fai Un bel carpaccio di manzo Fatto bene Manzo buono A te piace il carpaccio Lo nomini sempre Questo carpaccio Ti piace Lo mangi con questo Fai un figurone E i tuoi ospiti Sono super contenti Bene Noi lo siamo ancora di più La puntata di oggi Sta terminando Grazie Come anche il nostro vino Sta finendo Come al solito Lasciate un mi piace Come abbiamo ricordato A metà video Ragazzi Condividete Passate dai nostri canali TikTok Instagram E soprattutto Youtube Che ci sarà il video integrale E non dimenticatevi Di iscriverci sempre Che è questo Che è questo E non dimenticatevi Di iscriverci sempre Per qualsiasi cosa Vogliate sentire E vogliate Ascoltare Dateci dei consigli Ragazzi Scrivete qui sotto Nei commenti Mi raccomando Da 075 è tutto Questo è vino frizzante Questo è 075 Un programma Con il vino Ma non sul vino Alla prossima Ciao